L'attenzione di Coop Italia sul tema del rispetto degli animali è stata confermata nel 2008 quando grazie alla nostra richiesta di abolire la detenzione degli astici e delle aragoste sul ghiaccio perché provoca loro grandissima sofferenza, Coop Italia immediatamente ha deciso di togliere questa modalità. Da questo punto di vista è stato un risultato importante che altre catene della distribuzione non hanno fatto subito oggi ci aspettiamo la possibilità che si vada oltre e che si comincia a fare anche una campagna di informazione sul tema della bollitura viva di questi animali.